Ciao a tutti ragazzi, eccoci con il nuovo video del Bado, oggi ragazzi siamo qua per commentare l'ottavo di finale che ha visto affrontare Napoli e Barcellona, un ottavo di finale bello, pieno di una partita veramente molto maschia e arbitrata molto bene, ma andiamo come sempre passo per passo a commentare questa partita, una partita che inizia subito con un Napoli che fa capire qual è la sua intenzione, cioè difendersi e ripartire molto velocemente. Tutto questo riesce abbastanza bene al Napoli infatti perché per 30 minuti pressa, cioè più che pressa, riesce a stare dietro, chiusissimo in difesa, squadra in 20 metri e con una buonissima ripartenza, un grande errore di Junior Firpo, si trova a Mertens, a limite dell'area di rigore e un tiro a giro che si insacca sotto al 7 ed è l'1-0 per la squadra azzurra e l'arena di fuorigrotta esplode. E il Napoli continua a giocare una grandissima partita, soprattutto molto, che comunque ha fatto perdere moltissime energie appunto alla squadra partenopea e infatti nel secondo tempo pian piano questo si è visto perché la pressione ha iniziato a vacillare con l'ingresso di Arthur. Il pallone ha iniziato a essere giocato in modo molto più fluido da parte del Barcellona ed arriva l'1-1 da parte di Griezmann su un errore di Mario Rui che va a passare Semedo sulla sua fascia, la mette, l'appoggia facilmente in mezzo e Griezmann segna. Ma in realtà il Napoli ha regalato poco o nulla a questo Barcellona. La partita continua ad andare avanti, il Barcellona in realtà ha pochissime occasioni, il Napoli invece ha le migliori occasioni da gol, una con Caglion che si divora un gol a tu per tu con Ter Stegen, Ter Stegen bravissimo, un grandissimo partire probabilmente come rendimento forse adesso il migliore che c'è al mondo, li nega la gioia del gol. E poi anche molte potenziali occasioni per il Napoli che spesso sbaglia quando manca l'ultimo passaggio. Comunque la vera svolta, diciamo il vero punto che lascia un grande favore al Napoli è l'espulsione di Vidal perché è un Barcellona che è già un'emergenza sia in attacco che a centrocampo. Infatti i tre di centrocampo già si sanno perché Buschè inoltre ha preso una munizione e sarà squalificato, di conseguenza i tre centrocampo e già al ritorno saranno Rakitic, Arthur e De Jong. Non ci saranno altre scelte, anche in attacco probabilmente ci sarà l'esordio di Ansufati da titolare perché appunto con l'infortunio di Suarez e queste espulsioni di Vidal anche in attacco il Barcellona diciamo che non è messo per niente bene. Perciò il Napoli deve continuare a credere perché per come ha interpretato la partita oggi ha avuto molte possibilità di vincerla e molte possibilità anche secondo me di passare il turno e ce l'ha tuttora queste grandi possibilità. E sicuramente Gattuso ha dimostrato che lui si è rivoluzionato alle squadre perché ha dato appunto quello che tanto chiedeva De Laurentiis, ha dato a questa squadra moltissima cazzimma. Scusate passatemi il termine però diciamo che era quello che richiedevano i napoletani, quello che mancava a questo Napoli e Gattuso è quello che ha messo in campo. Sicuramente non è una squadra spettacolare come quella di Sarri ma questa è una squadra molto pratica in cui tutti si sacrificano e che riesce a portare a casa i risultati. Detto questo dal bello di tutto ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao!